Devo fare per noi, per la nostra città, un discorso d'arte come funziona l'ultima opera d'arte di Uwe, ex di Ama, non vi preoccupate, continua anche senza scritta, per le strutture, per il nostro futuro splendido. Allora, come tutti i grandi artisti italiani sono appassionati alla bellezza, ci siamo, arte deve essere bella, arte è bellezza, tutt'altro ancora è discutabile. Quale futuro ha la stanza di compensazione? Mi portate un piano e quando mi portate un piano per la riqualificazione vedo pure la situazione che hanno anche un piano con la struttura sociale fuori in piazza. Perché come noi sappiamo bene della storia, prima della storia e prima scritta la storia, fino all'ora, diciamo fino alla quattro mesi e mezza fa, è stata questa una piazza commerciale. Però, ora siamo tutti in una certa età, ora vogliamo appartamenti e vogliamo dormire tranquilli. E ora facciamo così, con la stessa amministrazione, wow, facciamo una zona residenziale. Però abbastanza costosa, perché per questo dobbiamo mettere la polizia municipale e la carabiniera e la polizia della strada a verne di sabato notte per dieci ore, fino alle 30 membri e fino alle nuove macchine, qua ciò per ancora nessuna dorme perché non l'abbiamo venduta. Ora speriamo vendiamo tutto presto e così la polizia è possibile anche dormire di nuovo a casa.